Grazie Presidente, chi è arrivato qua in questi giorni non ha potuto che fare un attraversamento della Catalogna. Ringrazio il collega belga che ha voluto fare un accenno e se mi permette faccio anche io due piccole parole per la reazione che noi abbiamo assistito. La reazione del governo spagnolo alla richiesta di un referendum da parte del popolo di Catalogna. Noi abbiamo in queste sedi più volte condannato queste reazioni non condivisibili. L'ultima, la reazione della Turchia di Erdogan al dopo colpo di Stato. A una domanda di democrazia secondo noi non si può mai rispondere se non con il dialogo. E non si può mai rispondere con la violenza usando la violenza come strumento politico. Esprimo a nome mio della delegazione italiana il biasimo per quello che è successo, la distanza da questi metodi. ma vorremmo che, ancorché in questa sede non è prevista alcuna presentazione e risoluzione dei documenti, ma che almeno in modo informale si prendano le distanze con un documento libero che magari potremmo fare noi parlamentari da questi metodi usati dal governo spagnolo. Veniamo alle nostre questioni. Il Mediterraneo, chi ci vive, l'Italia per tre quarti di paese è in mezzo al Mediterraneo. aveva capito per tempo quello che sarebbe successo. In due grandi meeting dell'OSCE nel 2009 e nel 2010, svolti a Oslo e a Vilnius, avevamo inserito delle particolarità. Gli hotspot devono essere fatti prima delle partenze. Evitiamo partenze tragiche, evitiamo morti, evitiamo che poi i paesi non siano più in grado di accogliere questi grandi flussi. Bene, noi li abbiamo votati, ma i governi poi non hanno dato alcun seguito. Insomma, siamo nel 2017 e ci troviamo in queste situazioni. L'Europa ha fatto una serie di missioni, l'ultima, che sembrava orientata a fermare il traffico di esseri umani. Soffia, Triton, come l'hanno chiamata. Però è sembrata poco incisiva anche questa. Nel senso che si è continuata con l'opera di rischio e recupero e salvataggio e poi portando tutti questi recuperati nei porti italiani. Diciamo che i porti più sicuri e più vicini erano la Tunisia, che però non li accetta, o Malta, che si addirittura li respinge, la Francia che ha detto che non aprirà mai i porti, le ONG che porteranno rifugiati su questi territori. Diciamocelo, l'Italia è stata abbandonata. L'Italia è rimasta sola nell'affrontare questo grande traffico, diciamo, flusso dal Nord Africa. Noi questi anni siamo riusciti a fare un accordo diretto con il governo libico, o meglio, con le varie componenti dei governi libici. Abbiamo realizzato degli ospedali in cambio, misurato ospedali militari. Abbiamo donato due motovedette alla Guardia Costiera Libica, li stiamo addestrando per che cosa? Per sconfiggere quello che è un grande sistema di criminalità che sfrutta esseri umani per scopi, chiaramente, per scopi illegali. Bene, l'ha ricordato il collega Gugliev della Zerbaijan, in questi momenti non bastano più le parole, buone parole, parole di solidarietà. Qui bisogna, e vado a chiudere, Presidente, bisogna che tutti gli stati facciano di più, bisogna che tutti i colleghi si impegnino su questo fronte, ma operare, ho finito, Presidente, fattivamente, fattivamente. E non ci bastano più, scusatemi, le dichiarazioni di solidarietà. Grazie.